a distanza di dieci anni forse non ho una risposta esatta perché ancora oggi non mi ricordo di quello che è successo anche alla fine dopo tante ore che abbiamo cercato di fare di dare il meglio di noi stessi non non ho ancora ricordo non ho ancora quella sensazione di dire massi che che cosa è successo siamo tornati a casa e abbiamo cercato di salvare tutti quelle che salvare quante persone è riuscito guardi come squadra sommozzatori per esigenze operative ci siamo tutti dividere quindi ho lavorato con stefano e con stefano abbiamo salvato sette persone mentre gli altri ragazzi che sono saliti a bordo quindi mi riferisco ad alberto a massimiliano e loro sono riusciti a tirare più di 70 persone ad accompagnare sulla biscagina e a prenderle poi inoltre su dentro dentro proprio il corpo della nave posso immaginare che oltre la paura dei naufraghi in quel momento al buio una notte di gennaio anche voi immaginare questa paura guardi forse è stata quella che ci ha aiutato tanto ha aiutato a fare il nostro lavoro e a tornare a casa perché probabilmente era la paura di non tornare che ci ha spinto a fare il meglio e a dare il meglio